Sì, sicuramente sarebbe bello segnare all'Adriatico, ho fatto sempre gol in trasferta, però se non le avessi lette stamattina in questi giorni queste cose non ci avevo pensato perché alla fine o segnare in casa o in trasferta l'importante è raccogliere punti, lo dico proprio con sincerità perché magari anche l'anno scorso l'ho segnato più fuori casa che in casa l'importante è raccogliere punti e magari i gol devono essere decisivi, però sarebbe pure bello perché almeno i tifosi sono più presenti qua in casa rispetto che fuori però aspettiamo senza ansia, senza l'assillo del gol perché la cosa fondamentale è cercare di vincere la partita come per esempio la partita col Foggia non l'avevo segnato, però avevo fatto 90 minuti, avevamo fatto una grande partita, soffrendo ma avevamo vinto, quindi sono quelle le cose più importanti se vuoi fare in un'annata positiva Per quanto riguarda l'anno scorso i mesi a Ascoli, sì, sono stato bene perché mi hanno concesso di riprendermi perché a Palermo ero stato male ho dei ricordi bellissimi, però io lotto sempre adesso per la maglia che indosso, come quando ero a Palermo lottavo per il Palermo ad Ascoli ho detto tutto me stesso perché siamo pagati per questo e io voglio rispettare quelle persone che credono in me e quindi adesso sono a pescare e voglio rispettare tutto il presidente che ha creduto in me, la società, il mister quindi darò sempre tutto per cercare di fare il più possibile Tutti vorremmo giocare sempre dal primo minuto, il mister ha una rosa competitiva, abbiamo una squadra forte, abbiamo tanti esterni, abbiamo tanti attaccanti c'è anche Manguso, Maras che stanno facendo bene, anche Mirko, quindi la concorrenza è ampia però il mister farà le sue scelte, qualsiasi siano le sue scelte, io le accetto come sempre, non mi sono mai lamentato perché qualora venissi chiamato in causa ero tutto me stesso per far sì che magari il mister si ricreda o mi faccia giocare di più però sono contento perché alla fine sono riuscito anche a fare tre gol, ho giocato dall'inizio quattro partite poi sono subentrato quattro o cinque volte, quindi io sono soddisfatto